Ciao, nella lezione precedente abbiamo creato una schermata di tipo lista per visualizzare l'elenco dei pazienti. In questo video creiamo una seconda schermata come dal nostro sketch per visualizzare le informazioni relative al paziente e le visite a lui associate. Iniziamo quindi col cliccare su modifica al formato. Qui per creare un nuovo formato esattamente come nella lezione precedente andiamo su nuovo formato resoconto. In alternativa dal menu si può andare su formati, nuovo formato e notare la combinazione dei tasti rapidi da tastiera. Clicco, si apre la finestra nuovo formato resoconto, assicurarsi che sia selezionata la tabella pazienti, nome formato diamo il nome di dettaglio visite paziente, selezioniamo il tipo di dispositivo ipad e per questa schermata scegliamo modulo perché vogliamo vedere tutte le informazioni relative a un paziente e tutte le visite che lui ha effettuato presso la clinica. Clicco e fine. Abbiamo il nostro piano di lavoro con il formato dettaglio pazienti, dettaglio paziente, aggiungiamo un titolo, qua ingrandiamo un attimino questa parte di navigazione superiore, inseriamo il titolo dettaglio visite paziente, vado sulla barra degli strumenti, clicco sulla T, qui mi creo uno spazio per inserire dettaglio visite paziente, clicco fuori, vado ad attribuire uno stile, quindi vado in corrispondenza del riquadro impostazioni, stili e qui scelgo testo intestazione. Posso in alternativa o addizionalmente aggiungere anche la dimensione del carattere 24, questo va benissimo. Per la seconda cosa dobbiamo andare ad aggiungere i campi, in questo riquadro di corpo aggiungeremo dei campi per le informazioni sul paziente, in corrispondenza del riquadro campi, la tabella corrente e paziente, ci va bene, dobbiamo selezionare nome, cognome, città, telefono e email. Per fare in una sola operazione posso cambiare la posizione di email e metterla in questa posizione, vado nelle preferenze di trascinamento, posizione campo verticale va bene, qui non scegliamo questo, bensì questo con le etichette al di sopra. Seleziono quindi nome, maiuscolo sulla tastiera, tengo premuto, clicco su email e trascino sul mio piano di lavoro, qui potrebbe andare bene, rilascio, vado a trascinare il campo foto e posiziono qui in questo spazio, vedo di allinearlo con il nome, ridimensiono, posizione e qui posso ingrandire in questo modo per avere un bel riquadro di foto, ok? Andiamo a vedere in modo usa il nostro nuovo formato e qui abbiamo la configurazione delle informazioni relative al paziente. Posso ricercare qui ARIS e qui abbiamo il record relativo al paziente ARIS, l'app. Posso anche trascinare una foto e inserire in corrispondenza di questo. Non ci soffermiamo tanto qui sul design ma sulla praticità delle funzionalità. Ora che abbiamo le informazioni relative al paziente, dobbiamo inserire le informazioni relative alle visite, a tutte le visite associate a questo paziente e per fare quello, visto che prendiamo informazioni da un'altra tabella, quindi la tabella visite, ricorriamo allo strumento portale che permette di vedere dati correlati. Vado su modifica il formato, questo è anche una specie di ripasso perché abbiamo già visto nelle lezioni precedenti come utilizzare lo strumento portale e in questo esercizio utilizzeremo altre funzionalità addizionali. Vado quindi su portale, clicco, trascino per creare un rettangolo in questa posizione, quando rilascio appare la finestra di impostazione portale, mostra record di, vogliamo mostrare record di visite e qui per ordina scegliamo questa volta di fare un ordinamento, si apre la finestra ordina i record, scegliamo di ordinare per data visita, quindi doppio clic, viene posizionato il campo data visita in criteri di ordinamento e qui abbiamo in ordine ascendente, quindi dalla data meno recente alla più recente, la più recente sarà in basso. Faccio ok, un'altra funzionalità che potrebbe essere utile, consenti lo scorrimento verticale, sempre, numero di righe, 5, nel caso in cui ci fossero più di 5 visite abbiamo lo scorrimento verticale per vedere altre righe. Possiamo anche utilizzare usa stato riga alternata per aiutarci nella visualizzazione e qui facciamo ok. Ora aggiungiamo a questo campo i dati che vogliamo vedere dalla tabella correlata visite, andiamo ad aggiungere medico, doppio clic, data visita, ora visita, doppio clic. Clicco ok e in corrispondenza del portale abbiamo i nostri campi. Se vado in modo lo usa, vediamo che il paziente Aris ha visitato la clinica due volte, di cui questi sono i relativi dati. Al medico potrebbe essere utile avere qui le intestazioni, quindi vado di nuovo in modifica il formato e aggiungiamo le intestazioni in corrispondenza di ogni campo. Questa volta scegliamo di andare sullo strumento testo, trasciniamo qui per creare lo spazio dove inserire l'etichetta e inseriamo medico. Clicco fuori, utilizziamo la tecnica per copiare questo campo e aggiungere le etichette relative a data visita e ora visita. L'altra volta abbiamo utilizzato Alt dalla tastiera. Possiamo utilizzare anche il comando D. Se vai qui in modifica, vedi, duplica è il comando D. Quindi se clicchi qui, il comando D, puoi trascinare questo in corrispondenza di data visita. Con il campo selezionato non c'è bisogno di fare doppio clic. Quando vuoi sostituire tutto, inizi semplicemente a scrivere data visita. Clicco fuori, mi trovo più comodo con Alt, clicco e trascino. In corrispondenza di ora visita, con il campo etichetta ho selezionato, scrivo ora visita. Andiamo ad aggiustare alcune etichette. Hai notato che per il campi, per la descrizione dei campi, evito di utilizzare i caratteri accentati, mentre nell'etichetta possiamo utilizzarli. Quindi clicco in corrispondenza di città e andrò ad inserire qui un carattere accentato. Questo pure. Devo cambiare prima la mia tastiera e qui posso inserire città. Ritorno quindi in modo USA. Qui abbiamo configurato le informazioni sul paziente. Posso ritornare a mostrato e scorrere per vedere altre informazioni su altre pazienti e le visite a loro associate. Nella prossima lezione vedremo come creare un altro dettaglio di prestazioni per visite allo stesso modo di quello che è stato fatto per questa lezione. Alla prossima! Alla prossima!